Libia, Siria, relazioni tra Arabi e Israele e le sue ambizioni presidenziali in Egitto sono alcuni dei temi che Amr Moussa, segretario generale uscente della Lega Araba, ha toccato nel corso di una intervista esclusiva a Euronews. Benvenuto segretario Amr Moussa, benvenuto a Euronews. Signor segretario generale, crede che l'Unione Europea, sprofondata con me nella crisi economica di paesi membri come la Grecia, sia ancora capace di offrire un sostegno economico efficace e duraturo ai paesi arabi in via di trasformazione? L'Unione Europea non sarà la sola ad offrire il proprio aiuto. C'è anche la Banca Mondiale e poi il Fondo Monetario Internazionale, i governi dei paesi industrializzati e ci sono i capitali arabi. In questo quadro l'Unione Europea potrà garantire per la sua parte di aiuti. L'Europa è rimasta sorpresa dalle rivoluzioni arabe e le sue reazioni hanno finito per farle perdere credito. Soprattutto a causa di ciò che non ha fatto in Tunisia, di ciò che non ha capito in Egitto e di ciò che sta facendo oggi in Libia. I paesi arabi devono contare su loro stessi in primo luogo. Le rivoluzioni arabe non sono né dirette né ispirate da qualcuno, ma sono il risultato di una realtà che di fatto le ha generate. Molti tra noi avevano preconizzato queste rivoluzioni perché la situazione si è andata aggravando ed è divenuta insopportabile. Da qui l'esplosione che ha colto di sorpresa all'Occidente, che aveva fatto affidamento sulla stabilità dei regimi autoritari basati sulla repressione. Noi nel nostro paese sentivamo l'instabilità di questi regimi e l'arrivo imminente delle rivolte. Al contrario l'Occidente non se le attendeva. Per questo si trova ora in una fase di autocritica della lentezza, con cui ha cominciato a rendersi conto delle realtà e al regime. Come valuta l'intervento militare in Libia? Crede che l'Occidente interverrà militarmente ovunque ci sia una rivoluzione, in qualsiasi altro paese arabo? Non sono convinto che questo si possa riprodurre altrove. Penso piuttosto che il ricorso alla forza militare non contribuirà a risolvere la pericolosa crisi di questo paese. Un cessate il fuoco sarebbe per se stesso un passo importante per calmare le tensioni e proteggere le vite umane, aprendo la porta a una nuova Libia. Questo potrebbe avere l'accordo di tutti. C'è ancora una possibilità di un intervento arabo e tutto ancora in discussione. La lega araba è intervenuta direttamente nella crisi libica e non in altre rivoluzioni. Perché? La politica della lega araba non è decisa dal segretario generale, ma dai paesi che la compongono. In relazione alla crisi libica si è registrato un voto chiaro di 22 paesi, mentre in relazione alla Siria i paesi membri si sono divisi. Il segretario generale ha la sua funzione, ma la decisione dipende dal voto. Signor Moussa ha ancora intenzione di presentarsi alle presidenziali in Egitto e dispone già di un'idea definitiva sul futuro del paese, come il generale De Gaulle sull'avvenire della Francia? Da un po' di tempo ho elaborato un'idea sul futuro dell'Egitto e per questo sono candidato alle elezioni, perché sono certo di poter essere utile al paese, più di altri candidati. E se sarà eletto, che avvenire avrà la pace con Israele? Il futuro della pace e delle relazioni arabo-israeliane è chiaro. Si basa sulle decisioni del vertice arabo di Beirut del 2002. Per quanto riguarda poi le relazioni egiziane con Israele, queste sono guidate da un trattato bilaterale, che dovrà essere rispettato da una parte e dall'altra, perché resti valido. Se verrà eletto, si impegnerà a non correre per un secondo mandato. Un solo mandato, certamente, e mantengo sempre le mie promesse. Come potete testimoniare? Grazie a tutti gli amici, Amr Musa e a tutti gli amici.